E' indubbiamente un momento di grande gioia per tutte, motivo di orgoglio che una vera eccellenza catese porti alto il nome della nostra amata cittadina. Lo afferma il sindaco Franco Raffa alla notizia della partecipazione del giovanissimo Danilo Guardabasso al programma televisivo Little Big Show in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21.10. Raffo racconta anche di aver avuto modo di apprezzare le qualità che anora il talento del giovanissimo artista, ma anche la sua semplicità e umiltà, doti che lo contraddistinguono. Danilo, 10 anni e quinto elementare in corso, ha alle spalle anche un curriculum didattico di tutto rispetto, con ottimi voti in tutte le materie e l'anno scorso ha partecipato con successo ai giochi matematici del Mediterraneo, classificandosi al terzo posto nella sezione regionale. Il primo cittadino ha pertanto invitato la cittadinanza catesa a stringersi attorno all'illustre concittadino e a tifare per lui, e anche se da lontano, incoraggiandolo e facendogli sentire grande calore e affetto. Grazie.